Il nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanze di Vibbo insieme alla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Vibbo Valenza e della Polizia Locale di Vibbo hanno dato esecuzione a un'ordinanza d'applicazione di misura cautelare personale e decreto di sequestro preventivo finalizzato alla conquista per equivalente emesso dal GIP del Tribunale di Vibbo su richiesta della locale procura nei confronti di 5 persone ai quali viene contestato il reato di peculato. Il provvedimento ha disposto la misura cautelare e gli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati e le sequestro preventivo di beni per ammontare a 230.110 euro. Le indagini hanno permesso di appurare come i due dirigenti di un servizio pubblico locale gestito e finanziato dalla Regione Calabria si siano appropriati nel tempo di ingenti somme di denaro pari all'importo sequestrato, destinandole tra l'altro ai propri congiunti mediante il conferimento diretto di incarichi in palese conflitto di interesse, eludendo le disposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego. In particolare dagli accertamenti svolti è emerso che per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti a cui ha preso parte l'ente si è avvalso negli ultimi anni, oltre che del personale regolarmente assunto, anche di altri soggetti mediante contratti di lavoro autonomo conferite attraverso lettere d'incarico privi di ogni riferimento circa la tipologia di selezione utilizzata e nelle quali non si dava atto di aver reso pubblica la ricerca di personale in quello specifico settore. La pluralità di incariche del medesimo contenuto reiteratamente conferite ai familiari delle persone colpite da misura cautelare evidenza peraltro la sussistenza di esigenze non temporanee ed eccezionali, ma ordinarie e perduranti, rispetto alle quali l'amministrazione avrebbe dovuto trovare idonee soluzioni in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché di aggiornamento e formazione dei profili professionali interni. L'analisi della documentazione amministrativa ha consentito di accertare negli anni l'ente ha approvato bilanci senza sottoporli al vaglio di un apposito revisore dei conti, figura mai nominata. I bilanci inoltre risultavano essere manipolati per dare false informative economico-finanziarie attraverso una rappresentazione furviante della situazione reale. La gestione illecita della cosa pubblica così realizzata ha portato al dissesto dell'ente che nel periodo preso in esame ha maturato una situazione debitoria quantificata in circa 700.000 euro.